Ma che ci faccio qua? Eh, ciao, ciao, ci sono dei nuovi dinosauri, bastatore, ah che c'è? Aia, devo diventarti carnivore perché si vinciti, si vinciti, e poi, sono felice per te. Aia, non devo diventare carnivore, bastatore, non vuoi capire che io non diventerò mai carnivore mai? Ma perché? Perché sono così, come ho detto la scorsa volta. Sono altri nuovi arrivati nel parco, che bello, questa volta sì che sono felice, 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 felice. Tre ore dopo. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Perchè? Eh, Kuki Kuki! E' sudo lì! Che cosa vuol? Eh, Kuki Kuki! E' tutto! Come ti chiami? Io mi chiamo Sino, voi? Io mi chiamo Orix Io mi chiamo Orix Ah, io bastatore! Bene, mettiti pure l'indisport Ma bastatore, smetti di stare niente Io sono felice! Oh, ma felice basta! Vai! Io sono felice! Ucciso! Oh, finalmente l'abbiamo ammazzato! Eh, continuiamo! Che verrà questa volta? Questo c'è un tipo bello tosse E questo che cos'è? E' un Magiungasauri! Io sono Magiunga! Voi come vi chiamate? Io bast... io Alex Io bastatore Dai, vai là! Ok! Che sarà il prossimo? Eh? Ma che cavolo di verso era quello? Non lo so! Non mi è mai sembrato di sentire un altro segno! Ehm... 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 Questo non so che cos'è... Lo dici tu? Ehm... ehm... Mi sembra un elefante cammello! Ehm... E tu? Oh... Sì! Sì! Ci dici come... che cosa sei? Io sono un Macroquenio! Ah, il Macroquenio! Adesso me lo riporto! Anche io! E che cosa è un Macroquenio? Ehm... Ma Alex, ma sei proprio stupido! Ma... Mi è vero state! Mi è da 4 milioni di macroquenio! Grazie! Ok, come ti chiami? Ma chiami un Macroquenio! Anche se la maggior parte delle persone mi chiama Quenia! Come vi chiamate? Alex evasatore! Sì sì! Io mi sono Alex! E io sono Oste! Chi sarà il prossimo? Ciao! Ah! E tu che cavolo sei? Teravolo? 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 No! In realtà io sono Pongo! Pongo! eh ah 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 ah! E non ho mai sentito il Perosauro così stupido, che si chiama Pongo, va via! No! Vabbè! Chi sarà il prossimo? questo lo conosco e chi è questo è un barionic barioli a un barionic chi sarà? ciao! oddio voglio dire che schifo sulla lingua che schifo come ti chiami? come ti chiami? io mi chiamo arex io ho una satura, una satura ma la mette di salvia quando si è seccato rimettete in una protezione bella e sembra pronto si va bene oh questo chi è? mamma mia quanti versi lo so che sono tre come vi chiamate? io sono un ornita lestes voi come vi chiamate ragazzi? io basta io basta io basta oh chi è? io basta l'ora ma la smetti di starmi addosso eccoci adoro poveri bario eccoci eccoci un'altra puntata che sta dimostrando in unico non ci vuoi? io mi chiamo arex e vaiare e se non ci fanno sui frasi chi sarà la prossima? ciao 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 io tu chi sei? io sono Fimone che? Fimone quindi ti chiami Simone e che tipo di non so che sei Simone? Fimone ok ho capito che ti chiami Fimone che dino so che sei? Fimone si ho capito ma che tipo di non so che sei? ah lo sono io lo sono lo sono io sono Fimone ok abbiamo capito che ti chiami Simone ma che tipo di non so che sei Fimone ma scemo o cosa? Fimone ho capito basta e poi si è che Alex è fatta come ah questo l'abbiamo giocato si è eh oh cavolo questo è giocato oh mamma Alex questo si che ti conosce ha 5 corni ehm per favore secondo te chi è? un dinosauro con 5 corni e il è un aspetta come si chiama? apetaceratope ehm ma questo non è ma questo non è perchè il crano delle corni non è così ma io sono diablo ceratope diablo ceratope diablo ceratope si come vi chiamate? Alex e bastatore aia oh è mostro per voi questo chi è? oh cavolo questo mi prego perchè credo che gioca dal dal verso che sia enorme ehm ehm esitamente enorme ehm te credo enorme è dieci volte più grandi di me e quattordici bastatore perchè sono un bastatore bastatore chissà che c'è qualcuno qua per te che c'è 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 come ti chiami? mi chiami però signor però come mi chiami? ehm mi chiamo Alex signor imperatore e io bastatore che ti voglio mangiare le capitane hanno un po' diversi vediamo se non riusciamo a riconoscere tutti eh vuoi avessi i non vi ha che che ma si cavolo passatore preparati buonanuccio ragazzi